Un'altra figura che, anche qui mi corregga se sbaglio, che credo non può entrare nella masoneria è il magistrato, giusto? No, assolutamente no, c'è una lista di magistrati. Ok, allora, come l'ho detto. In masoneria entra chi, nella libera muratoria entra chi vuole fare un percorso di conoscenza, di argomenti che sono i famosi misteri antichi, insomma. Nel pensiero comune, perché torno sempre lì, perché io di quello faccio parte, la masoneria è vista come un aiuto reciproco, no? Lui è un massone, ecco perché ce la fa. Quasi una scorciatura, no? No, questo è un fatto giornalistico, questo è un fatto giornalistico. La masoneria in Italia viene demonizzata innanzitutto perché viene chiamata masoneria, ma in realtà è una traduzione dall'inglese, da Freemasons, quindi già il termine è spregiativo, perché parla di massa e non è assolutamente di massa la masoneria. Quindi in Italia, dopo la P2, forse ha giusta ragione, per carità, non voglio mettere voce sullo storico, sul passato, ma bisognerebbe però educare nel senso inverso, cioè non generalizziamo. Oggi in Italia io sono costretto, e voi lo potete vedere, e quanti, mi conoscono, ogni volta che sento discriminare la masoneria pubblicamente, io scrivo il mio commento sotto e le schie, e le domando. Ma di quale masoneria stai parlando? Cioè, per masoneria oggi si intende, cioè è sinonimo di associazione delinquere. No, 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 assolutamente. È che spesso è stata associata a Banda della Magliana, Aldo Moro, mafia, cioè spesso l'associazione della masoneria ha tutte queste cose. Marco, ogni volta che parli di masoneria, io sto parlando della libera muratoria, e io rappresento questa? Chiaro. Ok. Se tu mi chiedi, fai la domanda che hai fatto prima, io ti devo rispondere, purtroppo, che ogni volta che qualcuno vuole associare ad un gruppo che vuole organizzare, che non sia necessariamente anche a delinquere, ma che stia al di sopra di altri, che decida per altri, in Italia si dice masoneria. Ok, ma è sbagliato, ma è sbagliato. Però perché capita? Capita perché il giornalismo dell'epoca voleva, insieme ad un potere ecclesiastico forte, demolire l'istituzione. Disinformazione, quindi. No, voleva demolire la masoneria. Volevano che non ci fosse più. Dando delle disinformazioni. No, in quel caso ci avevano le prove che una loggia si era comportata, diciamo, malino, no? Quindi non è colpa solo dei giornalisti e della chiesa, diciamo che... Però era una loggia. E' quello il punto più importante. Diciamo che era la loggia delle logge, nel senso che... Era la loggia delle logge. La P2, essendo coperta, aveva 900 iscritti, ma io di grazia, no? Cioè, qua mi viene da ridere. Anche voi che non siete massoni, no? Parliamoci chiaro. Dal suo punto di vista. No, no, ma adesso, no, te lo dico proprio... No, dovresti rispondermi adesso. Cioè, ti sembra normale che noi abbiamo una loggia massonica, dove, quando siamo in venti, siamo già troppo stretti? E quelli avevano 900 iscritti, quelli che conoscete voi. Cioè, mi dite quando hanno lavorato sta gente. Dove lavoravano? Nel campo sportivo. Cioè, ma fatemi capire. Quando hanno ritualizzato? Quindi si tratta di iscrizioni alla massoneria. Dove troviamo Silvio Berlusconi, troviamo il giornalista... Quello che è Baffi, ma sia. Quello che è Baffi. Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo. Un lapsus. Ecco, dove troviamo di tutto e di più. Troviamo magistrati, troviamo colonnelli, troviamo... Banchieri. Ma sì, ma perché all'epoca, se tu magari volevi arrivare ad un certo livello, pure professionale, oppure avevi bisogno di poter incontrare una persona, vi era l'utilizzo di questa iscrizione per poter simpaticamente dire, ok, anche io appartengo a ciò che appartieni tu, a cosa appartieni tu. In realtà poi non c'era nulla di vero di questo. Ho capito. Cioè, io quando Maurizio, all'epoca mi chiede, mi dice, come si fa a sapere se uno è massone? Io gli dissi inseguilo. Cioè, io gli disse la cosa più brutta che si può dire a uno, no? Cioè, seguilo. Sapete perché? Quello dica anche voi. Se tu hai sospetto di una persona, dice, no, secondo me è un massone. Perché parla, dice cose così uguali, il simbolismo lo usa. Ok. Tu aspetta una settimana, esca da casa e lo devi seguire letteralmente. Perché? Perché, per legge della massoneria, una volta al mese deve fare il rituale massonico. Ok. Anche questo... No, io vi ho dato le armi per poter distinguere. Quindi, il massone... Sì, essere un mese dietro una persona, ecco, diciamo che capita raramente... Eh, ma lui mi fece la domanda, ma Monti è un massone? Seguilo. Lo devi seguire, perché il massone, vero, quello vero è una parola così, però, il massone che pratica la massoneria è colui che va in tempio, che ha una loggia, che è iscritto. Tu vieni nella mia loggia, Simone, Marco, entrate. Sulla destra c'è la lista dei fratelli con la professione che fanno. E credetemi che sono professioni importanti. Ecco, uno con una professione, appunto, non importante, comunque... È un'associazione culturale, che ha di suo, chiaramente, un rituale, un qualcosa di magico, che ci porta un po' via nei tempi, no? Però, credo che sia talmente limpido, anche perché dovete sapere, che io, quando ho fatto finalmente la loggia nella mia città, che è Brindisi, dopo essere stato massone a Roma e tant'altro, i primi che sono entrati in loggia da me non sono stati fratelli massoni, ma la Digos. E uno della Digos mi disse, belleno lui, no? Disse, ma io posso entrare con la pistola? E io dico, ma certo che puoi entrare con la pistola. Cioè, non stiamo sacralizzando il tempo, perché qua trattasi proprio di ritualizzazione, di magia, insomma, quello che sappiamo noi, no? Dal punto di vista proprio delle energie che si creano. Però, in un atto burocratico, che tu venga a conoscere i nostri ambienti, ed è giusto che venga subito la polizia, perché non mi vieni dopo mentre noi siamo riuniti, che sarebbe un po' scomodo, ti dico che fu per loro, innanzitutto, una meraviglia, una cosa bella, e non ti nascondo che tanti poi sono diventati i nostri seguaci. Ah, seguaci. No, seguaci. Nel senso che ci seguono, sanno le nostre attività associative, nella città, ci vogliono bene, ci rispettano. Perché? Perché noi abbiamo aperto, noi non abbiamo la nostra riservatezza, rimane sempre e sola, quella durante il rito, durante la nostra ritualizzazione. Come mi piacerebbe vedere quel rito. Scrivi dalla massoneria, ti fai iniziare e poi inizia tutta l'ambaradana. È chiaro che a ogni livello troverai un modo differente di potenza massonica. Chiaro. Potenza della magia massonica. Chiaro. Sì. Chiaro.